Ecco uno spaccato di vita quotidiana a Giarre, una popolazione di roditori che entrano ed escono dai cassonetti. Il video che vi proponiamo è stato girato da una nostra telespettatrice che denuncia così un vero e proprio assalto di topi negli appositi cassonetti. Siamo in via Ungheretti vicino alla chiesa Altarello. Giornalmente i cittadini, quando vanno a buttare la spazzatura, hanno incontri ravvicinati con i ratti. Sono questi i cassonetti ed è questa la zona nel video che vi abbiamo appena mostrato. Ma a nulla sono valse le proteste dei cittadini. Lei sa che i cassonetti dove sta andando a buttare la spazzatura sono invasi dai topi? Eh, sono mille. Guarda, guarda, ma dove sono? Proprio sono in migliaia, migliaia proprio. Avete denunciato questa situazione? Sì, sì, abbiamo andato al comune, nell'ostituzione di questo qua reparto, però non lo so, dobbiamo prendere i provvedimenti. Questo quanto tempo fa? Ma che so, due mesi fa. Ma la loro presenza non è limitata a questo punto, dove alle spalle dei contenitori si apre un'area incolta dove attualmente c'è un cantiere. La situazione sarebbe, confermano in tanti, ben più grave. Ci sono topi dappertutto. Magari a casa vengono. Perché non ci vettano, valerano, non ci vettano, disapettanti, queste cose. E tutto questo accade proprio dove lo scandalo rifiuti coinvolgerebbe anche i cosiddetti colletti bianchi. Mentre la Tarsu, la tassa sui rifiuti, a giarre è particolarmente salata, c'è chi con i rifiuti appunto si arricchisce. E intanto pagate la Tarsu, che è anche molto cara? Certo, la pagiamo cara. Cara? Per tre volte, da quando vi stiamo pagando?